Ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi voglio parlarvi di un'applicazione che ho scaricato ed è l'applicazione di Tiger allora l'applicazione si chiama adesso ve lo dico Flying Tiger Jungle ed è questa nell'info box comunque il nome, il link e niente praticamente che cos'è questa applicazione allora un'applicazione dove si devono raggiungere degli obiettivi cioè delle missioni per esempio invitare gli amici a iscriversi all'applicazione compilare profilo, fare un questionario e praticamente si accumulano dei punti dei punti che praticamente ti fanno crescere di livello e praticamente a un certo punto hai dei regali e questi regali possono essere dei coupon la sorpresa oppure dei coupon proprio di soldi quindi da 3, da 8, 14, 21, 29 euro poi praticamente si possono inserire anche i vari scontrini di quando si fanno le vai a comprare da Tiger inserisci gli scontrini anche qui hai dei punti comunque praticamente nel reparto missioni c'è scritto tutto quello che potete fare come accumulare i punti anche semplicemente entrando in un in un negozio Tiger accumulate dei punti e niente io vi invito a scaricarla e a provarla perché comunque chi di noi non fa la spesa da Tiger chi di noi non compra le cose da Tiger l'unica cosa che vi chiedo se volete è quella di quando scaricate l'applicazione di inserire il mio codice il mio codice che è FJ7S comunque nell'info box lascio il link appunto col mio codice perché se entrate appunto se vi scaricate l'applicazione col mio codice mi darete dei punti poi voi a vostro modo potete invitare degli amici e questi amici che appunto andranno a scaricare l'applicazione mettendo il vostro codice vi daranno anche a voi dei punti quindi niente se vi va aiutatemi e niente buona raccolta punti a tutti vi saluto e vi mando un grosso bacio ciao ciao